Noi tra le altre attività abbiamo messo su un piccolo cantiere, abbiamo fatto delle trasformazioni di barca inglese, tra cui il Totoscope che era nostro, dove l'abbiamo vissuto per un po' di tempo, il Coscesito l'abbiamo fatto per Marco Ferreri, l'abbiamo fatto un'altra per Bini, abbiamo fatto un'altra, il Meloria. No, c'era Badan Caster che girava il Gattopardo. Noi avevamo questa barca ancorata a Palermo al porto, non so attraverso chi, lui ha saputo che c'era questa barca che era abbastanza piacevole, una barca inglese messa su con molto gusto, allora lui ne aveva fatto il suo punto di riposo, quando finiva di girare anziché andare a casa andava in barca, si drinkava parecchio, faceva uscire la barca, ma comunque era molto amato dai marinai perché era molto simpatico, così molto.